Arriva! Nuova Renault Clio e-Tech Full Hybrid. Venerdì 29 settembre alle ore 18.30. Ti aspettiamo presso la concessionaria Autovitani a Castione per un incredibile evento lancio. Durante la serata, in esclusiva, diretta streaming con performance live di Max Pezzali. Eravamo quel che tutti sognano! L'evento lancio della nuova Renault Clio e-Tech Full Hybrid è da non perdere! Venerdì 29 settembre alle 18.30 presso Autovitani a Castione and Evenno in via Rosette 1 a www.autovitani.it